Buongiorno a tutti, oggi ho servito nella mia camera, questa è la mia lampada, qui c'è mio moco da lavoro e tascogna. Qua c'ho le terrazze, qua c'è la finestra, qua ci sono le cassette, un intero guardate di cassette, qui c'ho le cassette della macchina, un applicatore i mini NES, il letterbox S, e basta. Ah, qua c'è il chiuletto, qua c'è la scala da fotometrale, e questo ho il proiettore, quindi, a tutti, questa è la mia stanza, comunque, ciao a tutti! Grazie.